Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo del Collegio 5, settima puntata, Rauw Teoli è stato espulso. E' andata in onda la settima puntata del Collegio 5 e anche in questa puntata, senza farlo apposta, abbiamo una nuova espulsione. Raul Teoli è stato espulso, ma andiamo per ordine. Dopo la discussione con Enzo e il bidello, Raul ha un momento di scomporto e si chiude in se stesso, ma alcuni compagni cercano di tirarlo su, ma ottengono l'effetto contrario. Ed è lì che si macchia di un comportamento che non può essere tollerato, costringendola a tornare a casa. Raul, per un attimo, ha avuto una reazione violenta nei confronti di un collegiale, Luca Zigliana. Inutile dire che il gesto non è passato inosservato al preside, oltre che al resto dei collegiali. E questa volta, però, non sono bastate le scuse e né tanto meno il pentimento del ragazzo. Raul è stato immediatamente espulso dal Collegio 5. E voi? Che cosa ne pensate del gesto? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red.